ma rotto le balle sto pacco ma sei nel cespuglio sono uno stupratore non essere racista vieni sulla barca nuovo delivery a rio un helicopter o io non lo guido ok sali sopra e sto cercando di saldi di muovermi in realtà ciao e few moments later e quando si in quanto vai in avanti indietro anche il beccheggio è esploso e lo so vicino a noi sta arrivando i pompieri stanno arrivando hai visto che ho uscito hai visto che ci sono dei granchi giganti è certo che li ha visti ma sei qua allora aspetta dai allora metti il pacco su allora ok io sono sull'elicottero devi mettere il pacco sull'elicottero come hai fatto prima poi con una mano con r2 tieni il pacco con l2 ti tiene l'elicottero perché prima stavi tenendo con tutte e due le mani il pacco allora no non riesco a tenermi all'elicottero aspetta è bloccata l'ascella è r1 quello che rimane su ma noi non ho r1 r1 ok si attacca sempre al mano sono il tuo capitano muovi a tempo il bacino sono il capitano ok possiamo andare dai e non c'è l'elicottero eccolo allora dai con una mano solo con una prendi il pacco con l'altra attaccati l'elicottero ok ci sei sì diamo mi pesi leggermente a sinistra e chissà perché lo lancia al volo no no perché esplode dai posso lanciarlo al volo dovresti andare un pochino più a destra non è facile non è facile cosa vuoi dire io che sono appesa nell'elicottero mi stai sbilanciando riesco noto dai per te è un pochino inguidabile se l'icottero scendiamo piano piano dolcemente e ma il pacco allora devi sganciarti col pacco non è non è esploso dai vai porta al palco porta al palco mi sono ingastrata e devi tirarlo su con l'altro braccio ok l'ho mollato vai ce la fai dai che ce la facciamo eh 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 triangolo ok vai piano piano bravissimo dammi il 5 abbiamo sbloccato il mulo il mulo il muletto non mi strozzare no dai ecco sono morta grazie sì sono felice adesso lasciami stare maniaco we why the ziplier nuclear power che cacchio standard safety first ma che cacchio di pacco è quello è pericoloso secondo me ok ok eh ciao dai agganciati al coso arrivo ok non è molto semplice i comandi sono molto aspetta fammi salire sul tetto fermo 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 dai che stiamo prendendo un sacco di tempo ma mi sei sul tetto non posso salire sul tetto come faccio a tenere il pacco ok e prendi il pacco con la mano che devi tenere alla maniglia che è dietro no non riesco a tenere il pacco troppo lontano io sto tenendo te aspetta sto tenendo te è lontano ho detto non eh ciao pacco che palle ma rotto le balle sto pacco oddio dai ma siamo ognuno da una parte diversa ma io sto senti che dice io anche lui no il mio sto facendo io sono morto sono caduta in acqua io non sono morto sto benissimo io sì e mo dove sono no sono in isola come sei in un'isola sono nell'altra isola io dai muoviti un po' su non farci perdere tempo guarda dove sono rispetto a te dai 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 vieni un po' su e prendo la macchina aspetta no puoi fare teleport respawn puoi fare respawn fai respawn ma che cazzo sto facendo io ma mi respawn acqua ok rifacciamo la delivery ok bisogna di qua ho visto e il bacino bacino ciao l'obiettivo la madonna è lassù in cima alla montagna allora vai dritta vai dritta aspetta 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 il pacco così si distrugge vuoi vedere tu lo tengo io sì dai dammelo a me ciao dove vai ciao lui lui va via scappa vai su l'infinito ma quanto sei albi in alto non riesco neanche a vederti con la webcam con la visuale sono al limite della mappa e spera lo vedo e ancora un pochino incontrollabile e cioè non è facile da controllare questo ma la gonna this is sparta no dai ti prego so happy faccia no smettila non è propriamente da donna da principessa vedete come kira scorreggia in faccia la gente ma smettila allora dai 100 metri possiamo farla a piedi si infatti vado io ti faccio da disurbatore se riuscissi a prendere la macchina niente non ti poi facciamo quelle strane cosa sono quelle strane sì con il cola e lo so lo so è che adesso aspetta è il club che boostera le cose guarda cosa c'è ma c'è guidare guida la macchinina se lo colpisci da dietro esplode io faccio gli arancioni aspetta ma si scivola aspetta o merda ok sei pronto ma vale vieni a prendere una macchina volante ma si può andare anche sulle pareti quindi ma una versione poraccia di rocket league di breakfast cosa sono quelle colonne laggiù d'ercole sì che colonne è una cosa molto cososa voglio vederla cosa dice il tizio salve tizio cosa dice è un aia dice che è un posto meraviglioso per un barbecue sì sì guarda che bel barbecue che ti faccio barbecue io sono rimasta incastrata aiuto hai una pista cos'è questo excalibur come il martello di thor come martello di thor io sono non riesco a prenderlo è perché non ne sei sono to prova a colpirmi e fa male in effetti fa male il martello di thor prendiamo la mongolfiera l'ho vista guarda chi c'è qui qualcosa mi ha ucciso è un porco spino è il porco spino più brutto che abbia mai visto posso scorreggiargli in faccia vediamo cosa fa no troppo lontano aspetta a ha